Ciao a tutti, benvenuti nel canale. In questo nuovo video di Ghost of Tsushima vi spiegherò a cosa serve il vento, come si usa e si potenzia. Negli open world di solito è presente una minimappa, un radar o un qualsiasi altro punto di riferimento per orientarsi. In Ghost of Tsushima è presente il vento, quindi sfruttando il vento voi potete orientarvi. Come funziona? Aprite la mappa, posizionate il punto che volete raggiungere, dopodiché scorrete il dito sul touchpad e come potete vedere il vento vi indica la direzione. Il vento può essere potenziato con l'esperienza che accumulate portando a termine le varie missioni. Avete fino a 5 potenziamenti per il vento. Potete potenziare il vento della salute, determinazione, degli amuleti vanità in ari. Quindi per ogni potenziamento il vento vi permetterà di trovare un'apposita località. In questo caso le sorgenti termali che vi permettono di incrementare la salute massima. Poi abbiamo la determinazione massima, i santuari scinto per i nuovi amuleti, le tane delle volpi di cui vi ho parlato in un precedente video e la personalizzazione dell'aspetto. Quindi avete la possibilità di trovare nella mappa dei, diciamo, oggetti di personalizzazione del vostro personaggio. Quindi quando salite di livello avete la possibilità di spendere i punti per potenziare il vento in modo da trovare facilmente queste località.